Credo che la mafia, come ha detto anche la Diaz, si sta interessando maggiormente dei rapporti con la politica e che arrivi addirittura a mettere dei candidati propri, cioè foraggiati d'essa stessa. Ora, questa è la valutazione generica, chiaramente. Adesso dobbiamo essere attenti nella campagna elettorale e regionale, ognuno a fare il suo e a cercare di tenere certi soggetti quanto più distanti possibile. Saranno un bel banco di prova le prossime elezioni regionali per cercare di ribaltare il report annuale dell'Associazione di Enti Locali contro le Mafia a viso pubblico, che verrà presentato nei prossimi giorni a Roma. Quello di quest'anno ha catapultato la Puglia al secondo posto della classifica in Italia degli amministratori sottotiro. Peggio di noi c'è solo la Sicilia. Le province pugliesi più colpite sono quelle di Bari, Foggia e Lecce. Stanno aumentando i casi di intimidazione agli amministratori. Credo che non sia una coincidenza il fatto che l'anno scorso abbiamo anche toccato il record dei comuni sciolti per mafia in Puglia. L'arroganza della mafia infatti ha colpito i comuni di Cerignola e Manfredonia nel Foggiano e quello di Carmiano in Salento. Nel 2018 i casi segnalati contro gli amministratori erano stati 59 ed eravamo terzi dietro Campania e Sicilia. E il 2020 non è cominciato certo meglio con i casi eclatanti di Cellammare, Sansevero e Toritto senza dimenticare l'attacco subito dal sindaco di Soleto, Graziano Vantaggiato.